Cambiamo argomento, continuano le riunioni del Comitato Ordine e Sicurezza sui territori. Oggi il prefetto di Potenza ha incontrato i sindaci di 13 comuni ad acerenza. Si è fatto il punto sulla lotta alla criminalità e sull'accoglienza dei profughi ucraini. L'inviato Umberto Vallone. Segnali di preoccupazione non ce ne sono, ma è necessario attuare un piano di sicurezza integrato e partecipato. Sono l'analisi e anche le strategie future emerse dalla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico che si è tenuta ad acerenza, seconda tappa delle riunioni organizzate dal prefetto di Potenza sui territori. In questo caso l'area di pertinenza della compagnia Carabinieri a acerenza. 13 comuni interessati che hanno sottolineato come principali problemi derivano dall'uso di sostanze stupefacenti in leggera crescita nell'ultimo triennio a causa anche probabilmente del disagio derivato dal periodo di lockdown. Chieste tra l'altro anche risorse finanziarie per la realizzazione di impianti di videosorveglianza e per l'assunzione di agenti di polizia municipale a volte totalmente assenti in alcuni comuni. Poi il capitolo altrettanto importante dell'accoglienza ai profughi provenienti dall'Ucraina. da parte del prefetto l'invito, accorato ma anche perentorio, di redigere una mappa delle strutture adatte a questo tipo di intervento umanitario da parte di tutti, l'apprezzamento per queste riunioni itineranti. Queste riunioni sono importanti ovunque si tengano ma soprattutto se diventano itineranti e arrivano sul nostro territorio. Il nostro territorio è spesso aree marginali, aree interne, quindi la presenza dello Stato è garanzia per i cittadini. La sicurezza è un concetto che va colto fino in fondo attraverso la partecipazione con gli amministratori locali. Noi stiamo portando avanti questo percorso, sarà in altri cinque comuni capofila per coprire l'intera provincia. Il senso di appartenenza a questa provincia passa anche attraverso la sicurezza urbana.